Ti ricordi quanti anni ha questa tua camicia, amore? 11 11 La presa dove? Annington Beach In California È un marchio californiano, magari vendono anche mai È un negozio Non vi lasciamo qui! No! 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 Comunque devo dire che tutta questa composizione sulla parete sopra il letto in camera mi piace davvero tanto abbiamo avuto una bella idea Secondo me poi nei prossimi mesi bisognerà espandere un po' eh Questa foto di Nadine è una delle mie preferite Bellissima Ecco il lago del Mortirolo Ebbene sì, macchina caricata, tutto pronto per il ritorno So che non torneremo qui in montagna per un bel po' Tu non ci tornerai Ah, Ricky dice tu non ci tornerai? Vediamo se torni da solo eh, vediamo se torni da solo Io solo, senza neanche i cani Va bene, mi ritengo io i cani, va bene Mi sa che il Serpella vuole fare tipo qualche giorno da solo in montagna senza di me, senza i cani, senza nessuno Nessuno no, tipo detox da noi, voglio vedere se mi lascia Bergamo da sola Voglio vedere Ehm, qualcuno mi ha detto tornerete la prossima volta in cinque Ebbene sì, prossima volta, non si sa ancora quando E soprattutto come Però, però sì, torneremo in cinque Questo autunno inoltre O inverno ecco Se tutto va come deve andare Insomma Vedremo